Gli alunni dell'Istituto del Nicola Sasso hanno incontrato Maglio Castagna, autore per la colana Oscar Berseller Mondadori di La Notte delle Malombe. La settimana scorsa, presso l'Istituto del Nicola Sasso, vittore del Greco, si è tenuto l'incontro con l'autore Maglio Castagna, che ha all'attivo un'ampia produzione libraria e saggistica per la casa editrice Mondadori e tra i suoi romanzi per ragazzi più noti via la trilogia Petra Demone e altresì insegnanti di scrittura per il genere horror e fantasy presso la scuola Olden e fa parte dell'organizzazione del Giffoni Film Festival. Gli alunni delle classi seconda B, terza C, terza D e terza E, seguiti dalle rispettive docenti di lettere Rossella Terracciano, Limpia Rescigno, Paola Ristoratore e Carmen Rey, hanno letto il romanzo La Notte delle Malombre, edito per la colana Oscar Best Seller della Mondadori, in cui si narra di un incidente ferroviario di vasta portata realmente accaduto in Lucania durante la Seconda Guerra Mondiale e su cui si innesta l'esperienza fittizia di 3-13 anni appartenenti a classi sociali diverse, che vivono questa drammatica esperienza. Essi rappresentano dunque modi differenti di vedere la guerra, ma anche un diverso approccio al prossimo e in un mondo desolato e allenato a causa della guerra riescono a stabilire un rapporto profondo e autentico che li legherà per sempre. L'incontro è stato vissuto dagli alunni con vivo interesse sia per le tematiche affrontate sia per la magistrale presentazione tenuta dall'ospite che è stato oltremodo coinvolgente e affascinante. Si è discusso non solo delle scelte tematiche stilistiche, ma sono emerse anche testimonianze di alunni cui bisnonni erano soliti percorrere la tratta ferroviaria che fa da sfondo alla vicenda. Il dibattito ha così stimolato l'attenzione per la figura autoriale e per la lettura in genere, compito che a pochi giorni dalla manifestazione Io Leggo Perché le scuole si prefiggono di mettere in atto con pratiche quotidiane che avvicinano i ragazzi al mondo dei libri.